ok ciao ragazzi buongiorno eccoci oggi in un'altra, no nella stessa sede dove opero però con un allenamento della classe 1 come esecuzione dimostrativa per cercare di far capire cosa si può fare in una palestra per magari cercare di perdere peso ma in tonicità ovviamente una dimostrazione è una classe, non è una dimostrazione televisiva da Mediaset da Rai 1 quindi non possiamo aspettarci dei professionisti, sono dei dilettanti che cercano di fare qualcosa per il loro corpo ma soprattutto per la loro mente io sono Baldo, chi non mi conoscesse, mi conosce adesso iniziamo a far vedere qualcosa del allenamento funzionale però improvvisato sono un altro sistema questo andiamo, vediamo un po', ragazze abbiamo Giuse, abbiamo Vanessa, Angelo e Chetti iniziamo con alzate laterali, vai ovviamente velocità, ragazze, grinta, ci vorrebbe una musica più spinta vabbè immaginatevi la musica dentro il vostro cervello vado, vai, ok pugni avanti in velocità ovviamente ci sono delle correzioni che poi uno man mano fa un lavoro cardio fitness quindi cardiovascolare pugni al cielo forza questo diciamo è la sala dove solitamente, lo so, resistere respiro, respiro, respiro 3, 1, respiro a larghi bormoni benissimo un attimo e utilizziamo diciamo poca roba oggi, giusto un assaggino anche se potete vedere le varie tecniche di allenamento, di funzionale, di workout nel mio canale youtube oltre che sui social e benissimo, adesso, 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 poggiamo i nanubi per terra mettiamoci con le manine sullo step pronti per fare una corsa a Spartani 30 secondi circa 3, 2, 1, go ok ciao Alessandro ci sta guardando vedi tua mogliettina è un po' accelera Chetti che c'è tuo marito che ti sta a guardare ok vai Angelo Alessandro non te la ridere forza acceleriamo, benissimo immaginiamo proprio di raggiungere un obiettivo raggiungere qualcuno che ci sta aspettando dobbiamo correre ok, relax rimanete in ginocchio allo stesso tempo rimanete in ginocchio ok respirate profondi abbiamo i polmoni e inspiro metto l'aria dentro e espiro butto fuori l'aria ok, bene aprendo proprio i polmoni rilassandoci sediti sui talloni Angelo ok rilassati benissimo ora da questa posizione ci prepariamo per fare le flessioni con le ginocchia per terra e qua ci faremo adesso quattro risate vediamo se qualcuno sbaglia che è appena avanti sistemiamoci giusi il ginocchio più indietro ok 3 2 1 go vai apro un po' più le mani Vanessa le braccia più larghe le braccia più larghe bravo Angelo brava Ketty a posto giusi un po' più avanti l'anca le ginocchia più indietro brava Vanessa continua resisto adesso stranamente senza farvi fermare in piedi e salti in avanti step e dietro vai forza dai 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 veloce oggi diciamo siamo tornati da poco dopo l'estate quindi facciamo un gradino molto basso così addirittura Ketty l'ha messo il più basso di tutti ah no anche Paressa e anche Angelo quasi tutti tranne giuste forza salto vai 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 forza saltiamo iniziamo la giornata con una buona attività fisica ricordate fa sempre bene forza dai vai vai via 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 forza ok respiro tre respiri one apriamo ok uno al sacco giro spalle vai giro spalle veloce veloce quindi lavoro di braccia dorsali in estensione e è più veloce Angelo e spalle ovviamente forza accelero accelero giro sala corsa vai corsa vai vai corsa verso attorno la sala al primo rosso giro ok vado 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 accelero zigg 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 al primo rosso vado vado forza ognuno ha il proprio step dieci salti vai forza lo so è così è stressante veloce un'ora intensa entro un'ora intensa di allenamento ricordate non è importante la quantità dell'allenamento ma la qualità come vi allenate e chi vi allena ricordatelo sempre respiro respiro ciao Giancarlo ci sta guardando anche Giancarlino respiro grande a posto forza così bravi bravi bene ok preparatevi con i salti laterali allo step ricordate i salti laterali prima dell'estate ok prendete a bordo al limite dello step lo facciamo tutto uguale giusi sarebbe buono giusi tutti uguali vedi dove sei sarebbe male ok e un bel salto e 3 2 1 go fai dobbiamo saltare lo step in realtà il bordo dovrebbe stare frontale alla testa quindi al limite ok ci sono delle correzioni che noi faremo man mano salto siete stanchi ok respirate sono le prime giornate da dopo l'estate da capire ok respiro beviamo un po' d'acqua velocemente dai nel frattempo che loro si risiedono se volete contattarmi sapete dove trovarmi chi non lo sa 329 419877 per l'interno di informazione anche attraverso la mia mail professionale baldalberti gucciolagmail.com o il sito web ufficiale baldalberti.it allora ok l'acqua non la portare dietro ovviamente siamo pronti per sistemarci nuovamente ok prendiamo manubri e alzate laterali forza per le spalle ok bravissimi forza vai alzate laterali benissimo veloce una lezioncina molto semplice come esecuzione come lavoro alla sua importanza pugni al cielo forza pugni chiusi e tricipiti su forza dietro andiamo veloce veloce ok vilai è arrivata la nostra virna ciao virna ok respiro respiro al sacco giro giro spinta quindi con affondi in avanti uno giro un altro esercizio molto particolare lavoro molto sulla velocità appunto cardio attorno al giro attorno al sacco appunto con noi un giro sempre lo stesso senso una spinta con le braccia quindi lavoriamo un po' tutto glutei gambe la parte anche superiore del corpo veloce spingo brava Vanessa e spingo quindi affondo e spingo quindi lavoro un po' tutto il corpo ok relax respiro tre non mi distacco dal sacco respiro tre bravissimi e adesso lavoro in spinta e piegamento vado via e quindi come se fosse uno squat aiutato da una spinta attraverso un sacco da box ok bene continua 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 giusi ok ebbene ragazzi con questo la prima la prima fase c'è Federica scianti bravissimi ci dicono ok così ci vediamo la prossima baci ok e con questa prima assaggio abbiamo finito e vi saluto ragazzi ci vediamo o fra poco con qualche altra sequenza la prossima no pain no gain la prossima es Grazie.